buongiorno mi presento oggi vado a presentarvi un libro effettuato molto divertente si chiama piegiorgio x8 p101 di brea una volta ho incontrato una protomatice di brea durante l'ultimo mega raduno di cat stevens il piccolo arriviamo fino a rio barbate da lei insieme a lei aveva anche gli stessi problemi di olivetti che sappiamo in caso ancora è risolto ora ho linkato tutto nel blog e possiamo vedere lupo da diamo posso ecco qua piegiorgio pierotti una vita storica per immaginare le nuove strade del futuro questo è il libro poi abbiamo c'erano anche altri testi come pellegrino principe programmare c qui da programmazione c e poi c'era c'è l'altro testo pure simpatico nicolav elenkov che ha scatenato l'ultimo triad di manglist che si occupa di android e hacking android lo spiega per filo e per segno facciamo a Grazie.